In prefettura Bari si è tenuta la conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza per la tutela della legalità sul territorio. La prefetta di Bari, Antonia Bellomo, ha adottato tra giugno e luglio sei interdittive antimafia nei confronti di società con sede legale nella provincia e attiva in settori diversificati, tra cui armamento ferroviario, agricoltura, autotrasporto per conto terzi e commercio di rottami metallici.